Non lavora più a farlo. Basta, non te parlo più, dà tenere. Il gioco invece lo faceva il peschioso. Non parla di un'altra cultura. Ma c'è un firma! Può essere il 2 è una persona. C'è un rampoletto. C'è un coglione, ti sai io che volevo dire. C'è un paneterno. C'è un paneterno. C'è un paneterno. C'è un paneterno. Ma no, ma giochiamo meglio al secondo tempo dal primo. Non c'è un paneterno. Ecco qua adesso. Forbicetta, io ho detto con me. Sei diventato pregiudicato. Forbicetta. Si, Forbicetta si è diventato pregiudicato. Gli hanno 15 giorni per poter riporti a questa chiesa. E' fermo restato che il DASPO parte dopo così. Sicuro. Se tu hai ragione, loro ti danno una risposta fra sette mesi, otto mesi. Ma intanto non c'era lo stadio. Ma intanto non c'era lo stadio. Quindi è finito da lo stadio. Poi andavamo a discutere. Poi andavamo a vincere il ricorso per 5-6 mila. 5-6 mesi, 7. E chi è che non ti fai entrare? Come dire? Ti hanno firmato? 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 Buonnamo, buonnamo, stai con la pagina. Ti hanno firmato, mi hanno firmato. mi hanno massacrato stamattina